il gentilmente c'è un po' il tappo in buccia anche voi dove 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 si gire così ti sei di qua Fabio sempre in mezzo stai con questo finoriente ma voi mettite sulle tante io te lo giuro avrai 29 anni magari 29 e mezzo ecco la terza questo è sconsi questo lo porto sempre in giro il pennarello fino 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 di chi era il pennarello questo lo fai sempre a nirola? eh si va non è caso Fabio si è fantastico Fabio sorridi Fabio tu quando stai vicino a Claudio sei troppo serio e vai che devi fare mica fa il comico non poter raccontare le barzellette nel durante avete fatto a me le foto vero? eh ma per chi ci hai preso? che si è preso tutte le email nostre? e mi mandi pure in giro? sporcano va bene sei gentilissimo ciao pure la foto ultima foto poi te la dà pronta si è fatta bene qui guardiamo non importa grazie buonanotte buonanotte buon divertimento arrivederci a tutti ciao ciao grazie ciao 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 ah ve l'ho fatta con la mia va bene è uguale basta che è venuta no tanto è che siamo in giro senti il nostro piccolo oh chi è? ecco chi è questo ah è certo , oh è è